Arriva finalmente la prima vittoria della Stagione per la Samp e arriva davvero in una maniera incredibile Adesso andiamo a vedere perché, prima di iniziare però un saluto a tutti i miei amici del Corner Sampdoriano Prima di iniziare come al solito vi ricordiamo i nostri social, ci trovate su Instagram come Corner, Tattino Basso Sampdoriano E ogni mercoledì sera in live sulla piattaforma Viola, quindi qualora lo vogliate ci trovate per parlare di Samp ogni mercoledì sera Detto questo partiamo con l'analisi di Cremonese Sampdoria, chiedo scusa per la voce ma molti di voi ieri ci hanno riconosciuto Quindi vi ringraziamo anche per il supporto che ci state dando E quindi ero a Cremona, ho dovuto rivedere la partita perché non si è visto niente tra bandiere, emozioni del momento Per avere a lucido un'idea chiara della partita bisognava assolutamente riguardarla L'ho fatto e bisogna esultare Bisogna esultare perché appunto è la prima vittoria Perché vai a 6 punti Perché dal punto di vista mentale ti dà quel qualcosa in più per affrontare la partita con l'Inter E bisogna esultare perché ti è andata di culo Bisogna esultare perché ieri hai giocato veramente male Penso che sia una delle Samp brutte che abbia mai visto In questa stagione ma anche in generale Una Samp che ha provato a sviluppare il gioco non riuscendoci Giocatori ancora troppo lontani dalla porta Un verre insufficiente Difficoltà appunto nell'impostare questa manovra Inevitabilmente poi vai a regalare i palloni alla Cremonese Che è una squadra che invece secondo me sa offrire un buon calcio Una delle uniche che gioca con la difesa a 5 Quindi si andrà a doppiare bene Dietro secondo me si muovono anche in una maniera discreta Perciò questa Cremonese secondo me non merita di essere nella posizione in cui si trova Però è una cosa che ha fatto la differenza anche per noi Hanno molta difficoltà nel fare gol E l'unica cosa per cui ci è andata bene ieri sera Perché si parla di una ventina di tiri per la Cremonese Molti e fuori di poco Una Cremonese che comunque è viva Dal punto di vista del gioco Dal punto di vista delle idee È una Cremonese che comunque offre qualcosa A differenza della Samp Che è una squadra davvero Abbiamo visto qualcosina Ma veramente a spraggi Secondo me Bisogna assolutamente cambiare Bisogna assolutamente Provare a giocare come la Samp ha fatto A Bologna nel secondo tempo Ieri da quando è entrato Iepes Più o meno abbiamo visto una Samp Che è qualcosina creato E provare a mettere questo fanatico 4-3-1-2 È quello di cui la Samp ha bisogno Perché c'è necessità delle due punte Caputo è un giocatore che non può stare da solo L'abbiamo visto anche ieri Ha avuto una difficoltà incredibile Nel gestire i palloni Nel arpionarli Nel gestirli Quindi è un ciccio caputo Che sta facendo veramente molta fatica È uno dei più giuri in campo di ieri Secondo me Anche per colpe sue Perché secondo me In alcune situazioni Poteva cercare di muoversi In un'altra maniera Però Vediamo Cerchiamo di vedere il dato positivo delle cose Che siamo ad ottobre Fine ottobre Adesso vai a San Siro Che è un campo molto difficile L'Inter è una squadra Che secondo me Dopo le prime difficoltà Sta ritrovando una quadra Perciò Assolutamente Bisogna cercare Di riordinare le idee Per fare comunque Una determinata figura A Milano Partiamo però Dal vedere cosa è successo ieri Perché abbiamo visto Una Cremonese Che appunto ha creato Subito Tanto per cambiare Un rigore A favore Della squadra avversaria Della Sampdoria Non è mai capitato Quest'anno Non è mai capitato Mai 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 Ormai Si parte Quasi dalmeno uno Per la Sampdoria Il rigore Che secondo me Non c'era Nel senso Il pestone c'è Però È in una circostanza Che Il difensore Che deve fare Deve togliersi la gamba Cioè Vabbè Comunque Sono pensieri E ne parleremo In live su Twitch Audero Bisognerebbe fargli una statua Il migliore in campo Non esce mai dalla partita È concentrato È sul pezzo È Emile Audero È Emile Audero Spettacolare Spettacolare Man of the match Insieme a Iepes Che è entrato Non mi ricordo quando Ma penso Attorno ai 20 minuti della fine E Ha messo in campo La Sampdoria E' un ragazzo Che secondo me Merita Un ragazzo Che deve giocare Dal primo minuto Perché mette l'anima Sa cosa vuol dire La Sampdoria E Sa Si mette nei fanni di noi Sa cosa vuole vedere Un tifoso Vuole vedere grinta Vuole vedere Corsa E ieri Lui Oltre a mettere questo Ha messo anche tecnica Ed è un giocatore Che secondo me Deve crescere Ma troverà veramente Molto spazio È un ragazzo in campo Io spero di poterlo vedere Perché no Anche a Milano Non avrei tolto Rincon Però Bisogna analizzare Questo secondo me Di ieri Quello che è emerso Da Cremona Da Bologna Che però non l'abbiamo visto In San Proma È la capacità Di Stankovic Di analizzare I momenti delle partite Io non avrei mai Tolto Rincon Però In quel determinato momento Della partita C'era bisogno di un giocatore Come Iepes E come Via Quando sono entrati due Abbiamo intravisto Una Samp Che ha provato Quanto meno giocare a calcio Abbiamo intravisto Qualche palleggio Ed è quello Di cui la Samp Ha bisogno Muovere palla Cercare di farsi vedere Muoversi tra le linee Che è una cosa Che non facciamo mai Mai E cercare di indirizzare Bene il pallone Sin dal primo controllo Non so se avete fatto Casa Murru Che è un giocatore Per me uno dei più giuri In campo di ieri Ogni volta che prende il pallone Non riesce mai A orientarlo Nella direzione giusta È una cosa incredibile Lo insegnano i bambini Nella scuola di calcio Pallone a Murru Equivale O Alla giocata centrale O a quella indietro Non va mai in avanti Murru è un giocatore Che non verticalizza mai E Se avevamo dei dubbi Augello sta facendo cagare E tutto Molto meglio Augello di Murru Non avrei mai pensato Di dirlo Però È imbarazzante È imbarazzante Un Nicola Murru Che ha fatto fatica Davvero Dal primo all'ultimo minuto In cui In cui ha giocato Poi è uscito A 45esimo Per questo infortunio Speriamo niente di grave Perché comunque È un giocatore che fa numero Però Non credo che In tutta la Sampdoria In tutto il settore giovanile Non ci sia Un terzino meglio Di Murru Potresti anche pescarlo Dalla Serie B Ed è una cosa che La Cremonesi ha Perché dietro c'è qualità Valeri è un giocatore Che io adoro Ci sono Altri giocatori Lo stesso Kereke De Serre Sono tutti giocatori Che comunque Hanno Un'ottima Un'ottima qualità Però appunto La difficoltà nella Cremonese Sta nel trovare il gol Ed è una cosa che Nel calcio Determina le partite Perciò Ieri Sotto questo punto di vista Ci è andato bene Tornando Sul Stankovic Appunto Sa leggere bene le partite Visto Visto questo Cerchiamo di Cogliere Di tirare le somme Da quello che abbiamo visto La Samp Con 4-1-4-1 Fa fatica Quale può essere la situazione? Giocare con 4-3-1-2 Quindi come ho detto prima Cercare di palleggiare Cercare di muoversi tra le linee E cercare degli scambi Che non abbiamo mai fatto Nella zona offensiva Quando arrivi nella zona offensiva Vai in panico Vai in panico E ieri Una cosa che ho visto È un disordine incredibile Un disordine Soprattutto in fase difensiva Incredibile È una Samp Organizzata male Secondo me C'è ancora un po' La mano di Giampaolo In questo Però Se la Samp gioca male Con Stankovic La Samp gioca male Con Giampaolo È La conferma che Giampaolo è sbagliato Assolutamente Stankovic ha già fatto Molto più di Giampaolo Però Ti fa capire che comunque La squadra Il livello tecnico È ancora basso È una vittoria Che comunque Ci dà questi Tre punti fondamentali Sono fondamentali Adesso siamo a 46 Ieri Il Verona ha perso A Reggio Emilia Una partita pazza Davvero Molto bene Molto bene Perché adesso Noi siamo a 18 E La Samp Ha bisogno di trovare Assolutamente fiducia Poi c'è Lecce C'è lo Spezia Leggo qui A quota 8 9 E poi Fiorentino E Monza 10 Quest'anno devi finire Sopra Cremonese Verona E una Tra Spezia e Monza E devi sperare E Lecce E devi sperare E devi sperare Anzi Tolgo Il Monza Che è una squadra Che secondo me Sta crescendo molto Con Paladino Ma come dicevamo In live È una squadra A cui basta trovare Un allenatore Che sappia mettere I giocatori Ben in campo E state vedendo Comunque I risultati Che stanno portando A casa Partita Molto difficile Quella di sabato sera Vai a Milano Un Inter che ha bisogno Assolutamente Di fare punti Di rilanciarsi Dopo l'inizio Campionato Abbastanza Complicato Quindi Massimo supporto Perché ieri Secondo me L'hanno anche vinta L'abbiamo vinta noi I 3.000 Sampdoriani Presenti a Cremona Quindi Cerchiamo di supportare La squadra Anche Sabato sera Io non sarò presente Alcuni membri Di corner Forse ci andranno Quindi Se ci riconoscete Come ieri Davvero Noi siamo veramente felici Di salutarvi Ci salutiamo Ci vediamo però In live Ogni mercoledì sera Quindi Domani sera Su Twitch Da Mattia è tutto Da corner è tutto Sempre a PortaSamp